musica 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 è ripartito? no di qua sterzo di la merda c'è troppe macchine eeeeeee uuuu avevo visto una frecetta guarda guarda da allora è vero ti vedo . noee vtw vwt e resultista la ahaha ag Vieni devolta, vieni devolta, dalla strada che tu c'eri va, vieni devolta. No, non ti ho detto. No, devi fare partire come fa' tipo uno scontro o un muso contro un muso. Guarda, vieni devolta la strada. No, ma dove vanno? Ma quando sei devolta? Ritorna indietro, neanche. Vai riprima. Dalla strada dove tu c'eri prima. Ecco, sinistra. No, lei va a sinistra. Sinistra. Oh, ma se vede che passano giù su è un vecchietto, non capisci un cazzo. Che ho visto? Di percettine. Le ho curro di risoltare. Ma che roba è. Cazzo, si è parto. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella raga!